Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di GTA San Andreas, GTA Samp L'ho scaricato ieri grazie a un amico su Youtube Vi farò vedere solo questo breve salto da qua su Con questa macchina rara nel gioco normale Ok, vedete che... questa mi sa che è una mod, vedete? Super salti sarebbe Ecco, vedete come fa la macchina? Ha una velocità pazzesca Questo credo che... ah, è una mod che solo pochi server hanno La macchina intatta Vabbè perché... credo si fixa da solo, si aggiusta da solo Ok, vedete adesso Un'andromeda Ok, continuiamo Oh, salto Su Samp potremmo anche teletrasportarci sui luoghi che ci piacciono Ecco Oppure vedere un menu di tutti i teletrasporti Per esempio, qui ce ne sono molto pochi Perché io giocavo a un server dove ce ne erano davvero molt... Davvero molt... tanti di teletrasporti Ok, scegliamo uno Mod, vediamo cos'è Ok, ho spawnato una macchina Con l'apposito codice E ora farò altre rampe Vedete com'è modificato dall'aeroporto di Los Samp Cioè non so perché il cadono in paracaduto dal cielo Vedete? Oui Ok, addio macchina E vi dico ciao con questa scritta fantastica A breve altri video di Samp Molto più lunghi Ciao, ciao E iscrivetevi al mio canale E iscrivetevi al mio canale